Quello che mi è rimasto sono state le persone, soprattutto le persone turche, quindi del posto, perché ci hanno accolto a braccia aperte, super disponibili, super gentili, specialmente Genap, il figlio dell'ex sindaco di Bartin. Per quanto riguarda lo scambio interculturale con gli altri ragazzi europei è stato meraviglioso, ho migliorato il mio inglese sicuramente, perché d'altronde si parlava solo l'inglese. Per quanto riguarda la città di Bartin, come ho detto Davide, mi ha colpito la biciclettata che abbiamo fatto tutti insieme, perché appunto vedere tutta la città è stata una cosa veramente carina, e anche la cultura turca, quindi la cucina, abbiamo provato nuovi cibi, nuove pietanze, e ai ragazzi che andranno l'anno prossimo posso dire di partire senza nessun problema e preoccupazione, perché è un'esperienza meravigliosa.